Va a prendere il suo bambino a scuola e non riesce a parcheggiare l'auto perché il posto riservato ai disabili è occupato. È accaduto ieri mattina ad Agropoli davanti la scuola, ma anche in passato si sono verificati episodi simili. La denuncia sui social arriva da una mamma che stanca di questa situazione ha deciso di denunciare il tutto. Ogni giorno la donna si reca a scuola dove ad attenderla c'è il suo bambino insieme alla maestra di sostegno, ma questa volta non ha trovato libero alcun posto auto per disabili che le permettesse di raggiungere in orario suo figlio. Alla richiesta di poter passare mostrando il cartellino che dimostrasse la reale necessità si è scontrata come ha scritto sul suo post con indifferenza, maleducazione, non un bricelo di cuore ed umiltà, gente presuntuosa piena di ignoranza. Parlate tanto, dichiara la mamma, ma valete per come siete, per come vi comportate e per le vostre misere azioni. Come sempre afferma alle ore 13 uscita di scuola tre posti per disabili tutti occupati e il posto sulle strisce pedonali anche. Chiedo con tanto di cartellino per disabili di farmi spazio per parcheggiare tutti a guardare ma nessuno si sposta. La mia collera è tanta perché mio figlio stava lì a guardare che mi aspettava vicino alla finestra con la maestra di sostegno e arrivata una certa ora si nervosisce e piange. Ho lasciato la macchina al centro strada con tanto di cartellino di disabilità e urlando come una pazza sono andata a prelevare mio figlio dall'uscita della scuola. Non è possibile tutto ciò, sottolinea la cittadina, non esiste una legge, un vigile, nessuno che faccia valere i diritti di un bimbo come mio figlio. Un paese dove ognuno fa come vuole, un paese che vive di cattiveria e menefeghismo e sapete solo giudicare e puntare il dito, vergognatevi, dovreste provarlo sulla vostra perle e vi definite genitori o volete dare educazione ai vostri figli quando neanche voi ne avete umiltà a zero, ma zero veramente. Questo che è successo oggi, conclude la donna, succederà ogni giorno e io ogni giorno lascerò la macchina al centro strada, poi vedremo fino a che punto arriveremo. Io difenderò mio figlio con le unghie e tutti quelli che sono i suoi diritti. Tanti commenti di solidarietà e appoggio sotto il post pubblicato da questa mamma che non chiede altro se non ciò che spetta il suo bambino per diritto.